amici e bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni oggi volevo fare un punto della situazione su una domanda che tanti si pongono tanti nostri clienti quando vengono nel nostro showroom o in officina ci chiedono cioè fare un po di chiarezza su quello che si può fare su un discorso di legislazione su quello che si può fare o non si può fare in Italia a livello di modifica sulle vetture purtroppo c'è una gran confusione ci sono dei paesi dove purtroppo la legge è molto più chiara prendiamone uno per uno per tutti che può essere la Germania che ha un ente che si chiama TUV dove in maniera molto semplice l'ente certifica tutti i vari componenti che eventualmente vengono montati sulla vettura abbinano il controllo del componente con la certificazione di avvenuto montaggio regola d'arte mettiamolo così quindi le officine che montano si assumono la responsabilità che è una parte che il montaggio venga fatto in maniera ottimale e il TUV controlla che i materiali che l'officina monta siano dei materiali non pericolosi è una situazione molto semplice che dovrebbe teoricamente essere applicata anche in Italia solo che purtroppo non voglio entrare in polemica perché già polemizzo abbastanza su altre cose anche in Italia potrebbero tranquillamente fare questo non è e quindi per tanti anni si è diciamo creato una situazione ibrida dove la gente non sapeva che poteva fare alcune cose alcune cose erano vietate alcune cose no addirittura anche coloro che le forze dell'ordine spesso e volentieri questo come racconti che ci fanno i nostri clienti tante volte non sono al corrente di determinate cose e o non intervengono o intervengono in maniera sbagliata quindi la sostanza di questo video è quello di fare un pochino di chiarezza io chiaramente non ho cioè non sono un legislatore però facendo questo lavoro diciamo che due linee guida ve le posso ve le posso dare quindi partendo da quello che cioè come abbiamo sempre detto noi operiamo un po sui vari settori che sono il motore l'assetto l'impianto frenante e un discorso estetico generale che può essere interno esterno partiamo dal motore che è l'aspetto che è più gettonato noi siamo qua da 35 anni e non ho mai avuto un cliente che alla prima domanda che ci ha fatto è quella proprio di dire voglio potenziare la macchina voglio che la macchina faccia più rumore voglio delle prestazioni diverse quindi il concetto motore prestazioni è la cosa principale che ci viene richiesta non tutti sanno che in italia è possibile fare diciamo una modifica sulla potenza della macchina sempre ammesso e non concesso che questo incremento di potenza rientri nel 10 per cento della potenza globale quindi facciamo un esempio matematico se una macchina a 200 cavalli io nel momento in cui faccio una modifica di elettronica e sto dentro nei 20 cavalli la macchina è comunque omologata chiaro che se io faccio una modifica dove oltre l'elettronica cambio la turbina cambio l'intercooler faccio altri altri tipi di lavoro per cui non sono più a livello di stage 1 ma arrivano stage 2 stage 3 è ovvio è evidente che la macchina non è più omologata quindi è già diciamo un qualche cosa poter lavorare in un ambito che su determinate vetture escludendo quelle aspirate perché tanto anche le aspirate voglio dire se io faccio un lavoro di elettronica più di 5-6 cavalli non riesco a guadagnare quindi aspirate generalmente sono tutte omologate anche ammesso non concesso di fare l'elettronica sulle macchine turbo diciamo c'è una discriminante il cliente se ci chiede ma io vorrei fare un lavoro sì di potenziamento però vorrei stare dentro i termini di legge si fa una mappatura un pochino più scarica diciamo così come come incrementi rispetto a una mappatura che normalmente faremo non prendendo in considerazione il risultato dell'omologazione quindi riprendendo il discorso di prima se su una macchina di un 3000 o un 2005 turbo diesel con una mappa normale sempre cautelativa io arrivo normalmente proponiamo una trentina di cavalli se il cliente ci chiede di rimanere in un ambito di legalità scarichiamo leggermente le percentuali e al posto che dagli 30 cavalli arriviamo fino a 18-20 cavalli non sono diciamo i 30 ipotetici che si possono avere però comunque la macchina viene comunque ottimizzata le prestazioni comunque cambiano la macchina comunque consuma meno e soprattutto è perfettamente omologata quindi questo è un aspetto che non tutti in Italia conoscono e è bene appunto ricordarselo sempre rimanendo nell'ambito del motore ci sono tanti altri aspetti che possono appunto incidere in maniera omologata o non omologata diciamo vediamo il discorso degli scarichi ad esempio quindi gli scarichi la parte di scarico composta da tante componenti anche in questo caso un diciamo il mercato offre e noi lo proponiamo sempre come prima scelta dei componenti omologati quindi che vengono forniti dalla casa che noi consegniamo al cliente con una affisce con un certificato di omologazione prendiamo uno scarico come questo macchina qualunque quindi non uno scarico diretto ma uno scarico sportivo che comunque abbia una sonorità sempre dentro nei 92 decibel è considerato uno scarico omologato l'omologazione ovviamente viene fatta, seguita e certificata dalla casa che produce lo scarico quindi noi lavoriamo con diverse case Super Sprint, Ragazzo, Ninoxcar, Remus, quello che vogliamo quando noi ordiniamo un pezzo omologato ci arriva il pezzo con la relativa affisce che noi consegniamo al cliente e a qualunque tipo di controllo chiaramente chi fa il controllo non può sapere se quello scarico è più o meno omologato basta fargli vedere appunto l'affisce di omologazione e in questo caso non si incorrono in sanzioni non si corre in sanzioni. Il discorso quindi per quanto riguarda appunto lo scarico generalmente si cambiano i terminali si può diciamo avere come sotto elementi centrali anche centrali ci sono centrali diretti o centrali sportivi diciamo leggermente più rumorosi di quelli originali ma comunque sempre omologati il discorso catalizzatore, il discorso catalizzatore ecco noi escludiamo sicuramente di non togliere il catalizzatore da un punto di vista diciamo funzionale perché si accenderebbe la spia motore e comunque la macchina non passerebbe le revisioni. Al massimo sul discorso dei catalizzatori quello che proponiamo noi è sempre la macchina catalizzata mettendo un catalizzatore sportivo metallico a 200 celle quindi escludiamo i catalizzatori agonistici con le maglie troppo larghe tipo i 100 celle o addirittura ancora peggio scatalizzare la macchina perché veramente quella è la soluzione che noi proprio non privilegiamo. Altre cose che si possono montare in maniera del tutto tranquilla sono il sound booster che noi abbiamo proposto se voi andate a vedere i filmati precedenti spesso proponiamo questo sistema che viene anche proposto di primo impianto come accessorio a pagamento da tante case Audi, Porsche, il gruppo Volkswagen e quant'altro è un sistema che riproduce in maniera autonoma il sound uno dei 30-40 sound che sono caricati non toccando strutturalmente nessuna parte della macchina strutturale l'impianto è completamente omologato quindi nonostante che uno se uno vuole mettere una tipologia di sound particolarmente aggressiva e diciamo autonomamente vuole alzare il volume anche se la macchina fa un rumore come se fosse un V8 a benzina quindi abbiamo fatto a volte degli impianti su macchine anche piccoline delle golf piuttosto che delle onda e cosa del genere e volendo si si ricrea un suono come se fosse un V6 o un V8 a benzina quindi se il cliente viene fermato fa vedere appunto il tipo di sistema che non tocca strutturalmente nessuna parte meccanica e in questo caso non può incorrere nessun tipo di sanzione né per controlli della stradale né tanto meno se andasse in revisione. ultima cosa come componentistica motore il filtro dell'aria basta mettere un filtro dell'aria pannello quindi sono vietati anche perché visivamente si vede perfettamente i kit di aspirazione che tolgono la scatoletta al massimo si mette un filtro di aspirazione più permeabile all'interno della scatola filtro quindi noi consigliamo sempre quando uno ci richiede una preparazione magari tocca la parte elettronica tocca lo scarico di completare il tutto anche con l'aspirazione però montando un semplice filtro a pannello e l'ultima cosa che riguarda il motore anche questa assolutamente perfettamente legale è il sistema elettronico che va a variare il tempo di risposta sul pedale acceleratore si chiama appunto pedal booster e in questo caso non andando a toccare la potenza della macchina ma cambia solo la reattività di risposta anche in questo caso il componente perfettamente omologato quindi parlando del motore avete visto che di cose se ne possono fare rimanendo perfettamente nella legalità passando ad altri componenti anche lì la legge nel corso degli anni è cambiata alcune cose che anni fa erano praticamente anni fa non si poteva fare assolutamente niente uno poteva mettere dentro la benzina e forse non tanto di più adesso nel corso degli anni da 5-6 anni a questa parte diciamo che i legislatori e chi appunto ha portato avanti questo tipo di discorso legato appunto al mercato dei componenti degli aftermarket delle modifiche sulle macchine che comunque è un mercato grosso che genera anche diciamo un sacco di persone occupate anche un sacco di introiti da parte dello stato determinate cose sono cambiate quindi in motore abbiamo visto cosa è possibile fare l'assetto anche in questo caso è possibile modificare l'assetto sempre entro determinati limiti cioè io l'assetto posso toccarlo come ammortizzatori l'importante è che siano ammortizzatori compatibili a quelli originali se hanno un'atterratura sportiva non incide sull'omologazione della macchina per quanto riguarda invece l'altezza della macchina che è determinata dall'altezza della molla è possibile fare una modifica entro i 25 mm quindi se io voglio andare a modificare avere una macchina più sicura che mi va a regolare quelle che sono i movimenti di rollio e beccheggio posso fare un assetto non estremo quindi tutti quegli assetti dove si vendono queste macchine in Germania se ne vendono tantissime con le macchine con le scocche delle macchine con la gomma che praticamente entra nel passaruota ovviamente in Italia non sono omologati in Italia sono omologati quegli assetti dove il ribassamento è nell'ordine dei 25 mm addirittura tante case automobilistiche propongono già la versione sportiva con la molla leggermente più bassa e sono perfettamente omologate quindi il discorso molla ammortizzatori lo si affronta in questa maniera ovviamente sempre parlando di assetto ci sono altri componenti che viceversa non sono omologati nello specifico mi viene in mente i distanziali che purtroppo allargando la carreggiata per asse ovviamente si spostano da quello che è la fiscia di omologazione della macchina e le barre d'uomi perché in questo caso la barre d'uomi c'è un motivo pratico per il quale non sono omologate perché ovviamente verrebbe modificata quello che è la deformazione programmata della scocca della macchina quindi diciamo che anche la barra d'uomi non è un componente omologato viceversa sono omologati sempre come assetto le barre stabilizzatrici uno può regolare e mettere una barra di sezione più grande in sostituzione di quella originale perfettamente omologato oppure cambiare anche in questo caso con un risultato assolutamente ottimale tutte quelle che sono le boccole che vengono fatte in teflon e che sono più rigide rispetto a quelle in gomma quindi non so le boccole della barra stabilizzatrice tutte le boccole che compongono i cinematismi dei bracci delle sospensioni della macchina in questo caso c'è una panoramica enorme di componenti che si possono sostituire rispetto a quelli originali e che non creano nessun tipo di problema quindi anche l'assetto l'abbiamo più o meno completato il discorso freni è stato recentemente da alcuni anni definito da un punto di vista legale quindi io posso cambiare, non posso variare la dimensione dell'impianto frenante cioè se una macchina esce con un disco da 320 mm non posso mettere un disco da 360 mm perché lì cambio strutturalmente una parte della vettura posso viceversa utilizzando ovviamente i dischi perché non è che c'è una cosa generica quindi è ovvio che se uno compra dei dischi e delle pastiglie devono essere specifici di quella macchina lì quindi questo è implicito uno può cambiare il materiale dei dischi, in questo caso questo è un disco della Zimmerman con una relativa pastiglia sportiva che può essere in sostituzione del classico disco liscio e della classica pastiglia ferodo in maniera tale da avere, da non toccare la dimensione dell'impianto frenante avere una frenata più pronta in questo caso noi consigliamo sempre di scegliere una mescola molto importante una mescola che sia non troppo aggressiva perché ovviamente le mescole troppo aggressive creano al di là di un discorso di omologazione o non omologazione creano anche un problema di messa in temperatura quindi a meno che uno non utilizzi la macchina solo per andare a Monza tutti i fine settimana se uno utilizza come tutti i nostri clienti la macchina per andare in giro normalmente mette una pastiglia sportiva stradale quindi l'impianto frenante l'abbiamo definito l'ultima cosa si possono cambiare le tubazioni dei freni al posto ovviamente mettendoci esattamente in dimensioni come quelle originali al posto che quelle in gomma che andrebbero cambiate ogni cinque anni uno le può sostituire con quelle in maglia metallica in maniera tale da avere sempre una pressione sull'impianto frenante costante e evitare quello che è l'effetto polmone l'impianto frenante l'abbiamo definito l'ultima cosa sulla quale volevo soffermarmi è il discorso dei cerchi perché anche qua nel 2016 è cambiata la normativa quindi indipendentemente da quello che è segnato sul libretto di circolazione tanti clienti mi dicono ma io ho la macchina, che ne so, un Audi piuttosto che un altro tipo una Giulietta lo possiamo anche vedere poi nello specifico che non ha segnato, non so, i 18 pollici allora dal 2016 in avanti è cambiata la normativa per cui è il produttore dei cerchi che va a omologare per il determinato tipo di vettura qua prendiamone uno a caso, il produttore è lo Z questa è una Giulietta e per la Giulietta propone tutta una serie di cerchi che vanno dai 17 pollici, 18, fino addirittura ai 19 pollici quindi ci sono alcune Giulietta che non hanno segnato sul libretto il 19 pollici se appunto uno decide di montare al 19 pollici può montare però in maniera specifica questo determinato modello che verrà accompagnato anche in questo caso da un certificato di omologazione che dovrebbe essere poi portato in motorizzazione e riportato sul libretto in maniera tale che in questo caso è il produttore stesso del cerchio che si assume la responsabilità che quel cerchio è stato costruito sul carico degli assi di quella macchina quindi anche in questo caso diciamo si è fatta chiarezza dove per tanti anni i clienti appunto andavano un po' a braccio quello che era riportato sul libretto si poteva fare tutto il resto assolutamente era improponibile adesso invece ci sono tante case ho fatto vedere il discorso della Giulietta se andiamo a vedere il discorso dell'Audi stessa cosa abbiamo preso qua un Audi A3 Sportback del 2000 TFSI per dire la 8P anche in questo caso andiamo dai 16, 17, 18, 19 cioè c'è veramente una moltitudine di possibilità ecco qua il 19 di questo modello qui per dire uno dice come mai questo cerchio qua c'è solo in 17 e 18 perché probabilmente a livello strutturale rispetto a questo il 19 non è stato omologato per un discorso di carico o di rottura sulla parte strutturale quindi alcuni cerchi ci sono ovviamente a seconda della pezzatura del cerchio si ridurrà o si amplierà in questo caso la scelta e uno comunque rispetto a tanti anni fa ha una come dire la possibilità di abbellire la propria macchina con dei cerchi di modello completamente differente ovviamente al cerchio poi andrà cambiata ovviamente la gomma che verrà calcolata sulla base delle tabelle CUNA e anche in questo caso diciamo da un punto di vista di omologazione la situazione è cambiata ed è cambiata assolutamente in meglio io direi che con questo più o meno spero di aver fatto chiarezza se avete qualunque tipo di domanda mi chiamate direttamente andate a consultare il sito www.nomeleagiri.it in maniera particolare andate a vedere quello che è l'archivio elaborazione dove troverete più di 3500 schede vettura vi invitiamo a rimanere collegati con il nostro canale youtube cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale in maniera tale da rimanere sempre collegati con tutto quello che facciamo qualunque cosa abbiate bisogno io sono qua dal lunedì al venerdì alla prossima ciao